Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su GTA 5 Online Terzo video del DLC del casino AST Nel video precedente vi avevo promesso Che vi portavo il sopralluogo E la sala giochi tutta rimodernizzata Quindi noi dove andiamo? Andiamo qui, entriamo, andiamo giù Perfetto, scendiamo le scale E andiamo qui in queste tabelle in teoria Sì, ok, dobbiamo andare qua in queste tabelle Premi freccia destra per fare un sopralluogo al casino E completare l'allestimento della sala giochi Premiamo freccia destra Ok, preparazione, sopralluogo al casino Mamma mia, allora Iniziamo bene con sto handicappato che ci uccide Perfetto Allora, io prendo questa macchina qua Perché la mia macchina è dall'altra parte Della mappa Andiamo, andiamo Pasquini, vuoi salire con me? Eccolo qua, Pasquini, vieni qua Sali con me, dove vai? Sali, sali Su, su, su Che dobbiamo andare a raggiungere il casino ragazzi Ok, e mi sa che dobbiamo fare delle foto In alcune zone del casino E così completeremo l'allestimento della nostra sala giochi E diventa tutta moderna E poi si farà il colpo La rapina al casino Ok E inizio già a ralentare Perché devo girare qua sinistra Perfetto Ok Prima Dove vado pure io Ok, andiamo a parcheggiare qua Vai, vai, vai Rettromarcia, retromarcia Ok, siamo qua Arrivati Entriamo Scatto una foto all'ingresso principale Allora Facciamola così Ok Dobbiamo prendere Tutto l'ingresso principale Invia l'ester Ora tipo mi sta cercando l'ester Sì, eccolo qua E lo invio Perfetto Perfetto E ora dobbiamo entrare Non lo so Aspettate Entra nel casino Ok Entriamo subito Ok Eccoci qua Allora Che dobbiamo fare Che dobbiamo fare Alla telecamera di sicurezza Ok Esamina le misure di sicurezza Allora Dobbiamo fare una Foto di sicurezza Cioè una foto Delle telecamere di sicurezza Una qua Invia l'ester Perfetto Una fatta L'altra Non mi ricordo dov'era Ragazzi Ah ecco Vediamo Qua la porta Dici Sì sì Grande Pasqui Ok ragazzi Abbiamo esaminato Tutto il casino Perfetto Abbiamo finito Abbiamo finito Quindi ora Usciamo Dal casino Ok Hai esaminato Il numero minimo Di elementi All'interno del casino Ce ne sono altri Da scoprire Ma voi Di provare Ah ok Quindi in futuro Potrò esaminarli Ok Quindi ora Non c'ho voglia Quindi figurati Se mi metto A esaminare Ragazzi Quello faccio qua Tetto Terrazza Vado sul tetto Va Ho scattato una foto Di una porta di sicurezza Sul tetto Questa Perfetto Allora Vediamo Questa Ah forse questa Aspettate No Allora Saliamo le scale Dovrebbe essere qui La porta di sicurezza Ragazzi Sì sì Dovrebbe essere qui È quella forse Allora Vediamo un po' Qualcuno sta facendo Bordello in sessione Ma chi se ne frega Perché noi siamo nel tetto Questa è la porta E questa è la porta Sì È questa Perfetto Magari Pure qua Ci sarà una porta Sì infatti è qua Magari ci sarà pure qua Cioè Me la dà come buona Vediamo Sì Perfetto Oh che bello Scatola una foto Di una porta di sicurezza Sul retro Pasqui Ne ha trovata una Di sicurezza Sulla terrazza Sulla terrazza Perfetto Mori Ok l'ho ucciso Un tempo Prendiamo l'opressor MK2 Che non so neanche dov'è Ok Qua è qua Qua è qua Oh ma che è Ah è qua Dai 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 Prima che c'è quello Che mi uccide Sali Ci vediamo Alla sala giochi Ragazzi Ok Eccoci qua Arrivati Alla sala giochi Dovremmo trovarla Allestita Aspetta che i membri Del tuo MC Lasciano l'aria Pasqui Non ha ancora lasciato l'aria No Allora vediamo dov'è Pasqui Poverino L'abbiamo lasciato là Ok Fra pochissimi secondi Dovrebbe dare il compagno E infatti Missione completata Il compagno Ha Cioè Si è tolto dall'aria Del casino Noi entriamo E vediamo se Il casino Si è allestito Ragazzi Entro E mi ritrovo questo Muri Mattoni a vista Macchinetta per le caramelle Quelle robe là Entro No Ragazzi Guardate che figo Guardate Che Figata Mamma mia ragazzi Mamma mia Top 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 Forse nel prossimo video ragazzi Proveremo i giochi Della nostra Sala giochi Pasqui Pasqui sta già giocando Già non vede l'ora Di vincere qualcosa Niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Iscrivetevi Condividete Lasciate like E noi ci vediamo Alla prossima Bella Alla prossima Alla prossima